Gravi disagi alla popolazione per la mancata manutenzione delle strade e del verde pubblico. Quella dell'ordinaria amministrazione che spesso garantisce l'erogazione dei servizi per i quali l'utente contribuente paga regolarmente i tributi e che assicura la risoluzione dei piccoli ma importanti problemi è un capitolo ancora chiuso anche per l'amministrazione comunale cioè per la Commissione Prefettizia che in questo momento guida il Comune di Melito di Portosalvo. Un Paese totalmente abbandonato, è un esempio lampante di questo abbandono e delle conseguenze anche sul decoro urbano e sull'incolumità pubblica e la mancata manutenzione delle strade e del verde pubblico a Melito di Portosalvo. Le strade sempre più colabrodo, verde pubblico sempre addirittura più pericoloso per i cittadini e per i pedoni ma anche per gli automobilisti. Adesso al di là degli aspetti burocratici sono oramai evidenti ed insostenibili i disagi che la mancata potatura delle palme, degli alberi e del taglio della vegetazione a bordo della strada sta arrecando alla cittadinanza. Il decespugliamento e la ripuletura delle aree verdi, delle siepi, delle strade, fino ad ora non è stato mai garantito da quando al Comune di Melito si è insediata una commissione prefettizia. Come si evince appunto da queste immagini, Melito sembra un Paese, come dicevamo in altri servizi, dimenticato da Dio e dagli uomini. La mancata potatura degli alberi comporta che i rami occultano anche la segnaletica stradale, creando non pochi disagi e pericoli a pedoni e conduttori di veicoli impossibilitati a ricorrere o a riconoscere e rispettare i segnali stradali. Un'altra grave conseguenza dell'assenza di interventi di potatura degli alberi la si vive soprattutto nelle ore serarie e notturne, quando gli effetti dei corpi luminosi accesi della pubblica illuminazione, già di per sé fioca, vengono annullati dalla vasta vegetazione che sormonta gli alberi dando a grandi zone d'ombre e di oscurità. Ciò pregiudica la pubblica e privata incolumità della popolazione. I corpi luminosi oramai sono facogitati dagli alberi, piantumati lungo il viale Garibaldi e questo è un solo chiaro esempio. Non mancano poi casi in cui le estensioni degli alberi, i rami di questi alberi che scendono addirittura fino al marciapiede e sono oramai divenuti ostacoli veri e propri per i pedoni, visto che stanno invadendo completamente, come in questo caso del mercato coperto, il marciapiede. Le foglie inoltre spesso, quando ci sono avverse condizioni atmosferiche, vengono poi sparse al suolo, intasano ulteriormente le strade e anche le feritoie sulle quali poi c'è il passaggio dell'acqua. Già quasi tutto è privo di manutenzione e di pulizia che l'amministrazione invece dovrebbe assicurare. Per non parlare poi delle insegne e degli esercizi commerciali che si trovano, oramai quelli che sono sopravvissuti, che riescono ancora a tenere aperta una serranda, che si trovano nei pressi di quegli alberi ed inesorabilmente occultate dai rami e dalle foglie degli stessi. Infine, per concludere, vanno ricordate anche le resine e le altre sostanze rilasciate da questi alberi abbandonati che si depositano sulle vetture in sosta e sulle persone che passano e che provocano danni alle carrozzerie dei veicoli e spesso anche ai passanti. Visto che la terna prefettizia che attualmente amministra il Comune di Merito è latitante su queste problematiche, ricordiamo alla stessa allora le responsabilità sugli aspetti gestionali e la tematica anche dei profili di responsabilità che emergono dalle attività di gestione del verde pubblico urbano che appare assai interessante in quanto concerne avvenimenti strettamente legati all'immediata esperienza quotidiana che hanno costituito oggetto di numerose pronunze giurisdizionali sia dai giudici della Suprema Corte di Cassazione sia dai giudici di Merito. Ecco, ricordiamo che ci sono molte sentenze in materia, dalle quali sentenze si evince in particolari che tali attività possono emergere appunto da tale mancate attività di ripulitura e di mantenimento del verde pubblico e della corretta manutenzione delle strade, ci sono profili diretti di responsabilità in capo alle amministrazioni, soprattutto a quelle comunali per i danni cagionati a terzi da beni che costituiscono in quanto accensione o pertinenze di beni di titolarità pubblica quali le strade, le piazze, i cortili e così via e tra questi il verde pubblico urbano. E allora vanno ricordati a questi signori i profili di responsabilità che possono derivare da tali attività ed in particolare va ricordato anche il pericolo per la caduta di alberi e di rami che costituiscono appunto una statistica anche frequente in tutta Italia e a merito di Porto Salvo, visto lo stato delle cose, i profili predetti di responsabilità da parte del comune di merito sono molto elevati. Elevati perché la pubblica amministrazione, come ricordavamo, è custode dei beni del verde urbano e anche delle strade. Custode significa che venendo a merito la terna commissariale avrebbe dovuto mantenere i beni che ha ricevuto dalle amministrazioni precedenti anche se sono state commissariate e che l'amministrazione debba rispondere poi dei danni cagionati da tali beni ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile. Bene, abbiamo fatto un giro per il Paese, se non altro per le principali vie del Paese, se non altro perché siamo oramai sotto le festività natalizie e come sapete anche a casa quando ci sono le feste si aspetta qualche ospite solitamente è usanza e buona creanza, tra virgolette, pulire quanto meno casa perché qualche ospite può darsi che arrivi. Bene, a merito di Porto Salvo non si è pensato nemmeno durante queste festività di rendere il Paese più accogliente attraverso appunto una ordinaria manutenzione del verde pubblico e delle strade. Ecco, come vedete dalle immagini, le palme piangono, piangono con queste foglie, questi rami che scendono quasi, arrivano ai marciapiedi e sono piante che in assenza di intervento rischiano di morire per incuria da parte di un'amministrazione comunale che molto probabilmente venendo soltanto qualche giorno alla settimana a merito non ha il tempo nemmeno di vederle. Bene, noi le proponiamo con queste immagini alla Commissione prefettizia ma anche a chi dovrebbe poi, e non sappiamo chi è che deve controllare o commissariare eventualmente i commissari prefettizi. Vedete questi alberi come sono combinati, ma siamo anche andati a vedere, a fare un giro sul lungomare dei Mille, un lungomare che durante la stagione estiva è meta di numerosi turisti e soprattutto cittadini provenienti dai paesi limitrofi e dalla città di Reggio di Calabria. Vedete, anche qui sembra sia passato veramente un bombardamento. Gli alberi oramai non esistono quasi più, sono tutti abbandonati al loro destino, abbandonati al vento e così come le strade sono abbandonate. Ecco, queste piante che meriterebbero un decespugliamento o una ripulitura non vengono comunque considerate e guardate da nessuno. La prossima estate se non ci sarà un intervento immediato di questi alberi non rimarrà che un ricordo, così come oramai è un ricordo il vecchio lungomare dei Mille che è costato tanti soldi alla popolazione melitese e ai contribuenti la realizzazione di quest'opera che oramai è completamente priva di servizi e priva di qualsiasi manutenzione che ne salvaguardi appunto il mantenimento dell'opera.